Sono tempi dal cielo chiuso, senza nessun indizio di certezza. Sono di nuovo tempi dove la tristezza è così densa che non sappiamo più sollevarci a combattere contro l'oppressione. Siamo tutti pallidi e il sangue comincia a sgorgare dal corpo dell'Italia. E quel che oggi a molti sembra grandezza non è che prepotenza. Quello che a molti sembra purezza non è che ecocresia. E quel che sembra vita non è che morte. E' la morte.